Com'è la situazione di Novax? Parliamo del mondo della scuola e soprattutto anche degli operatori sanitari. Ma è come il mondo? È un mondo di persone che non si rendono conto di quanto sia importante oggi vaccinarsi. Ora, è chiaro che noi sulla scuola ci lavoreremo perché proprio di ieri erano una novità relativamente alla somministrazione della seconda dose, che è stato visto che seppure la seconda dose dovesse essere somministrata oltre il tempo alla forbice prevista, comunque determina un'ulteriore risposta anticorpale. Questo che vuol dire? Noi abbiamo verificato che in Regione Abruzzo c'è circa un 3,5% di docenti che si erano iscritti alla piattaforma ma poi non si erano vaccinati e li andremo a ricontattare. Perché avendo già espresso una volta la volontà di vaccinarsi, li possiamo ricontattare. E c'è un 10,5% invece di docenti che hanno fatto la prima dose e non hanno fatto la seconda dose. Quindi la novità è la notizia che nonostante il ritardo si può fare la seconda dose. Esattamente, proprio di ieri del CTS la notizia è che seppure il ritardo, comunque una seconda dose somministrata a distanza rispetto alla forbice determina comunque una risposta anticorpale. Quindi questo vuol dire che va ad immunizzare comunque il soggetto che dovesse fare la seconda dose. E questo ci permetterà di andare a ricontattare quel 10%, parliamo circa di 3.800 docenti e non docenti, per invitarli a completare la vaccinazione in modo da dare maggiori garanzie alla riapertura della scuola. E per quanto riguarda i Novavax tra gli operatori sanitari? Allora, la regione ha preso i dati, ha tutti i dati che gli sono stati mandati dalle ASL, li sta incrociando e a breve ci rimetterà l'elenco di quelle persone che hanno deciso di non vaccinarsi. E a quel punto si prenderanno i provvedimenti previsti dalla norma. Anche se su questo, come accade sempre nel nostro paese, c'è sempre poi la scappatoia. Rischiano la sospensione? Allora, in alcuni paesi, come sappiamo, sono stati presi misure drastiche. Io sono per misure drastiche, cioè nel senso che oggi dove un operatore sanitario che non si vuole vaccinare sta mettendo a rischio se stesso e questo è, ma come ben sappiamo anche gli altri. La televisione richiama la sintesi, che significa misure drastiche? Che le dobbiamo verificare con il nostro ufficio legale.